Con Silvano, il presidente del caseificio e i soci, è nato il discorso di filiera, cioè dal produttore al consumatore. Aver trovato un partner come Silvano abbiamo trovato tante cose positive. Abbiamo un grande rapporto. Lui, insieme ai suoi collaboratori, ha dato tante idee di vendere anche il prodotto in un miglior modo e capire anche dove sbagliavamo noi insieme a lui nel produrlo, questo prodotto. Lui ti dà adrenalina in tutti i sensi, sia nella voglia di fare che nella voglia di vivere questo vertiere. Grazie per la visione! Grazie per la visione!